La Unitec, ho avuto modo di vederla all'estero, l'ho vista in Cile, l'ho vista negli Stati Uniti, quindi ho avuto un'ottima impressione. Quest'anno noi abbiamo fatto delle prove anche con questa nuova macchina, che è la Vision T, e i risultati sono stati eccezionali. Abbiamo visto che alla macchina non sfugge il minimo difetto. Il gruppo Rivoira da anni investe in innovazione e questo progetto ciliegie e il nuovo impianto della Unitec è senz'altro una grande opportunità per il futuro, perché questa zona meravigliosa del Cuneese è molto vocata per via di varie altitudini di produzione, quindi riesce ad integrare le stesse varietà e a spostarle nell'alco temporale di 15 o 20 giorni. Abbiamo deciso di realizzare questo progetto studiandolo negli ultimi tre anni e andando in giro per il mondo, vedendo le migliori realtà di produzione e soprattutto di impaccatori in tutto il mondo. Quest'anno è stato il primo anno di lavorazione del nostro prodotto. Il progetto è per circa 150 ettari totali nell'arco temporale di 5 anni, che potranno estendersi a 200 perché stiamo valutando alcune varietà club per muovere una parte di prodotto in esclusiva e quindi cercare di realizzare un po' quello che si è fatto sulle mele ed avere un prodotto esclusivo che traini la zona e traini questo nuovo progetto. L'investimento in magazzino abbiamo deciso di realizzarlo con un'azienda che conoscevamo da anni, con la Unitec che rappresenta l'italianità e la facilità di realizzare un progetto così complesso come una macchina per la lavorazione dell'ortofrutta. Siamo veramente molto contenti perché abbiamo visto un'azienda che è riuscita in questo mese, in questo primo mese di lavorazione, a darci il massimo supporto in partenza e forse da anni non c'era mai successo di partire con un impianto nuovo e di farlo così velocemente con tanta professionalità. Noi abbiamo scelto un sistema più che un progetto, un sistema di produzione, un sistema di lavorazione del prodotto che dà una facilità sia all'agricoltore in campagna perché utilizza un mini beans da 120-130 kg di prodotto e quindi abbiamo deciso con la Unitec di realizzare lo svuotamento in acqua in beans per agevolare tutto quello che è il processo produttivo. Oggi noi sperimentiamo circa 70 varietà di ciliegie nel nostro campo sperimentale privato. Abbiamo tantissimi sesti di impianto in sperimentazione quindi con alta densità e densità normale, con un sistema B-bound, copertura anti-pioggia e anti-insetto e con vari sistemi di produzione per oggi ancora ricercare qual è il sistema più semplice e più remunerativo per il produttore perché ricordiamoci che questo progetto è un progetto dei produttori e fatto e realizzato per generare liquidità estiva in un posto che con pesche e nettarine ha perso oggi forse un po' di competitività. Questa macchina consente di realizzare diversi tipi di confezioni non solamente la classica rinfusa con cui viene commercializzato il 70% normalmente del volume delle ciliegie confezionate e ci siamo un po' inventati vedendo quelli che erano gli imballaggi migliori oggi possibili sul mercato ed alcune referenze innovative come per esempio il vaso da 400 grammi abbiamo realizzato una borsa zip, abbiamo realizzato diversi clam di tipo innovativo tutti rigorosamente nel repete in plastica riciclata al 100% la macchina riesce a vedere una quantità di difetti importante e quindi fa sì che anche in partite problematiche il prodotto confezionato sia sempre di primissima qualità e possa garantire uno standard che non sia contestabile dai clienti e Unitech in questo è il leader sicuramente all'avanguardia avere una selezione curata elettronica del prodotto la famiglia investe in zona e continuerà a investire speriamo anche per la quarta generazione visto che lo facciamo da ormai tre generazioni grazie a tutti